Bella a tutti ragazzi, questa è la parte 2 delle mini aere scavatrici Cos'è sta cosa? Vediamo di fare un po' di ossidiano, che non ci serve un cazzo Ah già, così viene l'ossidiano Volà Solo l'entra per prendere Eh già, vabbè, tanto è più di farla Cos'è un po' di piccone E P, E P, L Dove andrò con questo ossidiano? Quale? Si chiama? Che cazzo domani faccio però? Bella domanda Bella domanda Ci chiedono tutti La cosa ne fai di tutto che lo isidiano in un piccone Che so Semplice Oh, no, faccio sempre bellezza perché figo vedere la zina Perché tutto questo lave nemmeno un po' di diamanti Ma io sto tornando Di solito per esperienza personale dove c'è lave ci sono Redstone, oro, come abbiamo già visto nella puntata scorsa e non ne voglio più Seriamente Perché è inutile loro Cioè, non so veramente perché cosa usarlo Possono essere il mod in cui può essere utile Ma qui, che cazzo me ne faccio Cioè, no, no, seriamente, cosa me ne faccio per loro È proprio completamente inutile Minecraft è normale Creeper, lo sapevo, era da me, lo sapevo Fortuni c'è l'armatura È perché io ho gli amici di Creeper Che vanno a farti la spia Spioni Ma perché io, cioè Oro, basta, fototissimo oro Tanto oro Non lo voglio più, non lo voglio più quest'oro E dammela a me e mi ci faccio altri stivaletti No, basta stivaletti, quindi non andatelo, lo prendo su Ehm, dove cazzo sei? Ah Ormai l'ho preso Mi provo ad aver visto, mettiamo contento Mi provo ad aver visto, mettiamo contento Ehm, è assolutamente un miraggio Voglio il mio patutissimo di avanti Loll Uh, trovo le caverne? No, 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 no C'è proprio l'unico posto C'è proprio l'unico posto Creeper Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa ti pappi oggi? Ciao, fototissimo Creeper Mi pappolori Ah, te lo pappi te? Punto No, perché poi arriva il mio amico Creeper che ti uccide Alla James Bond Che coglioni voglio il diamante E trovo solo perro e cazzate Vario Molto troppo varie Purtroppo, troppo varie Ok, io credo che farò l'ultimo tentativo Ma cos'è? Cos'ha sto? Qualcosa di mob credo Non è che tipo un creeper coglioni Boh ci sta Tanto io a me ho chiuso Però Che inutili Ma che cazzo è? Un creeper coglioni Oh, è un creeper che sta accendere se spegne assolutamente Perché non è l'acqua Purtroppo Purtroppo Qui sopra Oppure è un Sembrerebbe anche un ragno da coglioni Ssss Oh Ah, Gabri No Fa un culo Lorenzo Smettile con quei piedini d'oro E Il problema è che la tua skin è quella di un creeper Puoi metterti la skin di un cagnolino E' carino E non c'è E mettiti Lo snowman sono io Il fototissimo snowman sono io Ah no, ma io, Gabri, lo sai che ho fatto un tunnel Bello Per passare Vieni Non mi hai permesso un po' Va bene No, scherzo Io mi ne vado da quel tunnel Se lo ritrovo Questo pure No, non è qui Ah, eccolo, ho trovato Ok, non rompere qui i blocchi perché potrebbe succedere un macello Che cazzo succede qua Ma che cos'è questo posto? Ho scoperto le miniere che grande dell'universo In realtà non hanno grandi No No, infatti ne sono piccoli però Sono fighe Come sono scritturizzate Vieni, vieni Chiudiamo questo buco Ah, ah, ah Sono cattivo perché chiudo l'acqua Andiamo nel tunnel, Gabri Dio Cristo non potrà più camminare sull'acqua E io rido Ah, 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 ah 22 Fottutissime torci Voglio del diamante Ci sono già passati Eh Olè 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 Pulle 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 Tuffo 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 a granata Bombonza Eh? Non finisce mai Come il rotto leoni regina Ok, è finita Come? I rotto leoni Qui l'acqua ci è scavata un giorno gigante Piano di Fottutissimo Pasta Oro Pasta Oro? Pasta Oro? Pasta Oro Pasta Oro, è ottima Soprattutto dopo c'è guadagnare per conto si faccia male ciao carmi ciao carmi ciao lori io sto facendo parkour mi somiglia da monti oh so che vuole no non credo vuoi di esplodere anche il personaggio di mente oddio c'è un estremamente parkour ti stavano cadendo dei briscioli di roba sottotitoli di roba sottotitoli è morto ho lasciato la polvere credo io si l'ho presa io ho 12 polvere facciamo qualcosa ah ah ragazzi l'ossidiano ho visto raggiù in fondo è problema che mi stava trascinando sotto ma non è che l'ossidiano l'hai fatto prima sono tuttissimo grazie mi hai fatto vederli diante sono io appunto mi hai fatto vederli diante bene davanti lo dirai è che si sono deposto a grande cattolice speriamo che non siano uno però beh uno è già tanto beh no non è proprio tanto però dai voglio vuol dire che almeno in questo livello ce ne sono ma che cazzo taglimi questa aspetta no non la taglieri dalla base perchè mi serve eh quant'è 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 una foto di ciò solo dammelo io tengo i diamanti sono il più figlio cos'è quello il polpo di merda dammi il diamante no tieni mettilo sull'anello tiè grazie maure faccio un culo ok però te la sei cercata ahahah mettitelo sull'anello ok cerchiamo altro diamante redstone e lapislazzolo lapiscazzolo e fiero ma che cazzo 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 bravo ti sembra questi metodi o cazzo so perché decino bravo ma che cazzo ma che cazzo ma è stile e la dava merda non è possibile ci siamo davanti solo dai 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 ci deve essere un altro almeno un altro almeno altri due sei proprio il top il top massimo i pesimi uomini così posso farmi fortissimo portare di osidiana e vaffanculo mi scippi anche voi ella si che strugio aspetta te la regalo no non me ne frego un cazzo se cazzo se cade nella lava fermo un cazzo tss è caduta legata un ferro a parte da aver visto ma che cazzo se ne frega del ferro cazzo che cosa c'è qua credo dimmi che chi ha luce una torcia eh fortuna non vorrei fosse stata una torcia se non stavo vicino intorno fa culo mi addio ho fatto un volante ho fatto no 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 ma dobbiamo stare a tutto che cazzo non lo so a tutti non lo so non lo so non lo so ci sono state ragazzo non lo so come trascade non lo so perché la resta non è sempre vicino non lo so non lo so meglio direbile forse non lo so ma stupi ma basta ferro che sta riferendo diamanti diamanti davanti diamanti 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 io ciò cosa c'è così uno stacchi intero di diritto da damanti da damanti e magari ma che cazzo chi servirebbero eeeh tutti i diamanti ebbè abbastanza direi offer ancora fatto da parte che non trovo tutto bene cioè qui ci deve essere senza essere uccisi io ho fatto un miniposto dove sto per cadere ah non dirò credito anche te eeeh riuscione con le parole perchè questo c'è con un po' il porto no con l'esterno con l'alberto c'è un po' il volo ma io sono stati che c'è un diamante ancora non è possibile ok sei tanto e sotto non c'è lavo come che cazzo ne so se c'è in mezzo del diamante meglio stare attenti che cos'era questo si probabilmente sono i vicini diamante no scherzo beh abbiamo trovato un diamante attenzione ma che cazzo stanno facendo non credo a quest'ora credo quasi le 9 e non di mattina ok carbonizziamoci ma comunque per chi se lo vedesse non rischio quando faccio tutti questi quando mi avvisco nei bordi cioè non rischio qualche volta rischio però tipo quando ci si piega in questo modo quando si fa ok quando ci si piega così non si può cadere per chi non lo sapesse cioè tipo si sporge al massimo però non cade tipo si sporge così di un blocco in più però che non c'è però non succede niente grazie di vino oh fatto un pazzo di strada oh questo è molto utile però non posso romperla cosa? come cazzo faccio faccio oh da giù sono abbastanza sicurezza del diamante ma prima esploriamo da questa parte aspetta abbiamo quanto abbiamo due di dimante? oh mi hanno messo una saccia da un bel po' vaffanculo ma perchè c'è questa cosa di skin ma tanto hai così d'oro è uguale vedo sempre tu chiedini mentosi oh scusami di spazio mi capire non l'ho fatto apposto anche perchè si mi fa cadere la lava cadere l'olino dimmi è quella una torcia una torcia no una torcia grande è la ok diamanti un cazzo oro uffi che palle sto vabbè mi farò un bel po' di orologi fugo mi farò un bel po' di orologi anche se sono presenti inutili farseli ma perchè? mi spieghi perchè di questo evento fattene uno cioè fanno due uno io mi sa che sto andando alla parte sbagliata porco la casetta ce l'abbiamo ah si già ce l'abbiamo già ma va fangato l'unculo l'unculo ok mangiamo perchè se non si muore ok torce no ho finito i fottotissimi pacchettini eh non ce li ho ce li ho io ho fatto a finire il carboncino il fottotissimo carboncino capito ho fatto la storia abbiamo trovato due diamanti me ne manca però siamo stati scolati perchè abbiamo trovato diamanti ma erano tutti singoli non è possibile avere così tanta sforza abbiamo trovato così tanta ossidiana ma nemmeno un po' di diamanti no l'abbiamo trovato io vabbè però c'è due un po' io lo so di solito lì c'è di solito le mie volte li ha trovati li trovavi tantissimi no io le volte li ha trovati li ho trovati insieme sicché tranquillo no però mi sembra l'hai dovuto pure di prendere va fanculo per rumori che per rumori vedete io sto spingendo al massimo ma non cade pure di sì raggiungo raggiungo ah già c'è pure uno scheletro merda lo so eh lui però un po' quello mi rompe magari ti puoi alzare no no figli di troia non mi farai il culo come ti ho già fatto trozzo ah sei stupido per fortuna sei la mia di stupiderri che è la mia di stupiderri ah stupido voglio chiudere no 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 non più no 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 fatto devo chiudere credo di Redstone non me ne servirà più eh quella città che sono decisive là hai un diamante Lorenzo non fare coglionate ecco la coglionata del secolo buttati dammi il diamante dammi il diamante dammi il fruttatissimo diamante ma no ma perché Oddio Vaffanculo Lorenzo Vaffanculo Hai perso il diamante Come un coglione Si è salvato tutto Tranne No cazzo Ma quanto cazzo è mongolo mio fratello Potete spiegare i miei commenti Cioè solo per questo si metterebbe la castigazione eterna Imbandimento dal paradiso No scherzo Dal paradiso Eh l'ho messa a cuocere Qualche strompino Stompino Non te la pigli la tua roba Ti ripeti tutto da cavo Si con il tuo ferro Che dammo Vabbè riprendi la tua roba Perché proprio son gentile Viglio l'armatura e me la faccio nuova Eh no Ok no Però ci sono delle bistecche Potrei togliere una pala Ottimo Però non voglio togliere questa Voglio togliere questa Perfetto Togliamo altra roba Legno 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 mi serve santissimo Mi serve santissimo Per fare bacchettini L no Scusa Butta i funghi Questo no Non voglio l'avevo tuttissime armature Quella è la mia Scusateci Sto andando rispondendo gente L'unica cosa che hai salvato sono dei pantaloni No ma dovevi prendere il vestivale Si Eh che momenti ci siamo Ok 17 minuti Eh bello a tutti ragazzi Ci si vede nel prossimo video La tratta del diamante No aspettiamo Un attimo Si non lo sarai magari in legno Eh siamo Ok ci siamo Si hai il tetto Zitto Mi stai perdendo Mi stai mettendo ansia Ormai prendiamo il diamante Non ti spogliere troppo però Non ti preoccupare Che cazzo Sei abbassato Ok Allora Che cazzo sto facendo No no c'è ancora la modalità attiva Si è bra Non ti fidare tanto Oh guarda mano Tre Ti potresti fare pure Una spada Non me lo prego Gli farò il piccone Vabbè Aspettiamo se ce l'ha Ok Prendiamolo Senza distruggerlo anche Grazie Ok posso togliermi Una verità Cose strane Eh Ok Buono Si mangia pizza stasera Ah è giorno Ok Ho fame Bella a tutti ragazzi E salviamo il gioco Oh Luchino è cresciuto Salviamo il gioco in questo momento E ci si vede al prossimo video In cui Vedremo di uscire dalla gratta Senza morire Dei grandi coglioni Che io ho giocato? Si genio Ma te non mi facevi uscire C'era l'acqua lì accanto Comunque Bella a tutti ragazzi E ci si vede al prossimo video Ciao Ciao Ciao